buongiorno amici buongiorno amiche nuovo box quello sulla sinistra è il box di oggi quello sulla destra è l'altro box che trovate recensito in questo canale che attualmente è uno dei migliori e serve a far diventare wireless il vostro android auto attualmente vi ha a cavo quindi se se volete potete andare a vedere il box il video di questo adattatore sempre nel canale cina deals il box di oggi fa una cosa un po' diversa se nella vostra auto c'è carplay cablato e volete rendere carplay wireless oppure rendere android auto wireless potete usare questo box quindi il presupposto è che nella vostra auto ci sia carplay cablato da quel momento se avete uno smartphone apple o uno smartphone android potrete collegarlo alla vostra auto in wireless in entrambi i casi la vostra auto infatti riconoscerà il vostro eventuale smartphone android o il vostro eventuale smartphone apple come se fosse collegato via cavo e rispettivamente si aprirà la schermata di android auto come in questo caso vedete con coolwalk in questo caso oppure se avete un dispositivo apple apple si collegherà via wireless a carplay infatti l'auto sia che voi abbiate un dispositivo android sia che abbiate un dispositivo apple riconoscerà collegato un apple abbiamo già visto questo tipo di trucco tra virgolette che fanno questi box un po' come lo fa 8cast o 2x o carlink kit 3 quindi utilizzando carplay collegano senza fili il vostro smartphone o android o iphone il box di oggi troverete il link in descrizione non è molto grande vedete è premium io non riesco a capire se sia plastica o alluminio i contorni comunque di buona di buona qualità non scalda eccessivamente questa è la sua è la sua scatola vedete si l'ho collegato alla porta usb normale da quel momento vi si apre qui una schermata dove vi dice se volete collegare con android auto wireless o con carplay wireless da quel momento potete ogni volta che salite in macchina senza collegarlo il vostro smartphone si connetterà al vostro sistema multimediale senza fili è possibile fare degli aggiornamenti OTA io ne ho già fatto uno collegandosi da browser dello smartphone a un indirizzo IP indicato nelle istruzioni la procedura è semplice però oltre a fare gli aggiornamenti OTA non potete fare altro non ci sono altri possibili settaggi da da fare quindi se volete cambiare i dpi non è questo il box che va per voi però come vedete nel mio caso non ci sarebbe neanche bisogno di cambiare dpi perché coolwalk funziona perfettamente non ho avuto problemi in chiamata non ho avuto problemi direi di nessun tipo è un prodotto affidabile come ho già detto in altri video probabilmente l'hardware è lo stesso di altri box con altri nomi ma a noi questo poco importa l'importante è che funzioni e che abbia un prezzo possibilmente contenuto se invece volete dei box con cui poter vedere Netflix con cui poter vedere YouTube in movimento con cui installare le APK non sono questi box che servono a voi ma sono quelli Android magari con 4 giga di RAM o 2 giga di RAM che però trovate recensiti sempre nel nostro canale sono un'altra tipologia di box ma hanno anche altri prezzi quindi ecco li ho messi vicino perché questo è un Android to Android puro cioè collega il vostro smartphone Android via wireless alla vostra sistema multimediale della macchina dove Android è cablato punto e basta prescinde da CarPlay e non collega un iPhone questo invece sfrutta il CarPlay cablato della vostra macchina per collegare il vostro smartphone Android o il vostro smartphone iPhone via wireless al sistema multimediale della vostra auto come ho detto in altri video nel mio caso qui perdo il collegamento alle copertine Spotify e le telefonate le posso fare esclusivamente qui da Android Auto e non le posso fare usando il Bluetooth della mia auto collegato alla mia auto non è una gran perdita però ecco questo va tenuto conto e io ve lo segnalo saluto Pasqui che ci ospita in questo canale e gli amici di Revotech sempre su YouTube restate connessi iscrivetevi a questo canale perché ho altri box molto interessanti in particolare della 8cast in arrivo ma non solo che recensirò come meglio riesco ciao a tutti